Sottoscritta un'intesa fra il Comune di Napoli e l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata. L'accordo prevede una più stretta collaborazione fra i due enti per il riutilizzo sociale delle proprietà che vengono sottratte alla malavita. Una volta assegnati al Comune di Napoli, gli immobili confiscati potranno essere destinati anche all'edilizia residenziale pubblica. È un segnale di legalità percepibile da quella fascia di popolazione che normalmente non si pone il problema della legalità. Quando noi con i soldi ricavati da affitti di case anche di prestigio, come abbiamo fatto a Palermo e faremo anche a Napoli, eroghiamo buoni casa agli aventi diritto, significa che stiamo lanciando un messaggio preciso. Con i soldi tolti alla criminalità noi aiutiamo le persone che hanno bisogno. Con questa collaborazione con l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, con il prefetto Postiglione, questo protocollo, noi andiamo a rafforzare una cooperazione innanzitutto di risorse umane, risorse organizzative, know-how, la possibilità di ottenere come Comune anche beni per l'edilizia residenziale pubblica da utilizzare per tutte le esigenze della nostra collettività e questo protocollo può essere anche utilizzato per quanto riguarda la città metropolitana.